Invalidata la proclamazione degli eletti ad Agropoli, il Consiglio Comunale guidato dal sindaco Roberto Mutali Passi va verso lo scioglimento. Il TAR di Salerno ha infatti accolto il ricorso presentato dal consigliere di opposizione Raffaele Pesce, rappresentato in giudizio dagli avvocati Elio Cuoco e Antonio Scuderi, in merito alle operazioni elettorali del giugno 2022 che portarono all'elezione dell'attuale Consiglio Comunale. Il Tribunale Amministrativo, dopo l'udienza pubblica di mercoledì, ha pubblicato oggi il dispositivo con il quale ha annullato tutti i verbali elettorali e le delibere di convalida degli eletti. Il provvedimento immediatamente esecutivo presuppone lo scioglimento del Consiglio Comunale, un atto che deve arrivare dalla Prefettura di Salerno. Al momento però non si sa ancora in quali e quante sezioni sia stato annullato il voto e dunque la portata del provvedimento. Le ragioni del dispositivo si conosceranno solo con la pubblicazione delle motivazioni entro dieci giorni ma di fatto sono già attese per la prossima settimana. La vicenda era stata sollevata all'indomani delle elezioni dopo che già la Commissione elettorale aveva parlato di gravi incongruenze. Il gruppo di pesce liberi e forti aveva presentato ricorso e da lì era iniziato un percorso non privo di rallentamenti e rinvii che aveva portato al riconteggio delle schede da parte della Prefettura, operazione anche questa che aveva evidenziato irregolarità nel voto e ad ulteriori verifiche disposte dallo stesso Tar. Ora il verdetto che ha spiazzato l'amministrazione comunale la quale si era sempre detta sicura della regolarità delle elezioni. Il giudizio d'altra parte non è ancora concluso, con ogni probabilità verrà presentato ricorso al Consiglio di Stato per cui i tempi di discussione e decisione sono stringenti.